ok ciao ragazzi oggi vi faccio vedere come fare un riavvio forzato o un soft reset chiamatelo come volete sui nuovi iphone xs e xs max la procedura è la stessa identica che si faceva con iphone x iphone 8 e iphone 8 plus in pratica è cambiata da quella che era appunto su iphone 7 ed è diversa ancora da quella che era su iphone 6 6s 5s 5 insomma i precedenti diciamo quindi adesso per il vostro iphone farete questo non è impallato però questa qui è una pratica che si fa quando il telefono è impallato comunque non sta andando si blocca lo schermo e lo schermo è nero quelle cose lì fate volume su volume giù velocemente e tenete premuto il tasto non vedete che viene fuori la barra di scorrimento potete spegnerlo così o sennò tenendolo premuto tenendo premuto il tasto accensione farà un riavvio forzato che è quello che stiamo facendo questo si fa quando il telefono è impallato o dai problemi in questo caso non aveva nessun problema era soltanto per fare un video per far vedere come fare un riavvio appunto forzato detto questo vi ricordo di iscrivervi al canale di lasciare un like al video e di mettere nei commenti se avete dei problemi diversi da questo ok dai al prossimo video ciao